Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi anche su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. In un mondo dove le relazioni umane sono tessute con fili fragili e mutevoli, si nascondono le ombre di chi, nel corso del tempo, si trasforma in una versione inaspettata di se stesso. È l'autunno del 2018 e ci troviamo a New Ash Green, un villaggio situato nel distretto di Seven Oaks, nel Kent, in Inghilterra. Qui vive Sarah Walgreen, una donna di 46 anni, madre di 5 figli. Sarah nasce il 17 settembre 1971, i suoi genitori si chiamano Anthony e Anne, ma Sarah cresce a contatto anche con il nuovo compagno della madre, il patrigno Jim. Online non sono riportate molte informazioni sull'infanzia di Sarah, ma dalle fonti disponibili si apprende che è molto legata a sua madre, infatti Anne racconta che spesso trascorrono del tempo insieme tra cene fuori, shopping o vacanze. Per sua madre Anne, Sarah è tutto ciò che si può desiderare in una figlia e la descrive come una persona dell'anima gentile e primorosa. Ma Sarah è anche una donna esuberante e convinta delle sue scelte, infatti non teme di mantenere ben salda la propria posizione se è in gioco ciò in cui crede. Ed è pure una madre amorevole, come vi ho detto, ha cinque figli, due dei quali nati da un matrimonio precedente, quando era sposata con un uomo di nove, Dave Bardet. I loro figli si chiamano Lewis e Jack e hanno circa vent'anni all'epoca in cui si verifica questo caso, cioè nel 2018. Sarah e Dave dunque nel tempo hanno divorziato e nel 2004, nella vita di Sarah, è entrato un altro uomo, Ben Lacomba. Sarah conosce Ben tramite un sito di incontri e i due si trovano bene insieme, al punto che iniziano presto una relazione. Ben viene presentato ai figli di Sarah, Lewis e Jack e ai due ragazzi lui piace molto, lo trovano simpatico e gentile e poi rende felice la loro mamma, quindi sono altrettanto felici per lei. Ben prima viveva in Spagna, così come i suoi genitori. Lee è stato addestrato per diventare un pilota, la carriera a cui ha sempre ambito, ma che non riuscirà mai a intraprendere pur trovando un altro impiego presso un aeroporto. In ogni caso Ben riesce a convincere Sarah a trasferirsi in Spagna, portando con sé i suoi figli, così avrebbero potuto concretizzare la loro vita insieme. Sarah in realtà è entusiasta della prospettiva di trasferirsi all'estero e accetta la proposta, lascia subito il suo lavoro come direttrice di banca, svolto in Inghilterra, e si stabilisce insieme a Lewis e Jack con Ben in Spagna. Tuttavia questo entusiasmo scema ben presto, perché qui Sarah fatica a guadagnare delle entrate che le permettano di provvedere adeguatamente ai suoi figli. Bella aveva rassicurata dicendo che, una volta ottenuto l'incarico di pilota, avrebbe conseguito uno stipendio sufficiente per prendersi cura sia di lei che dei suoi ragazzi, ma, come detto, lui non riesce nell'impresa. Sarah intanto fatica molto per trovare un lavoro in Spagna, anche perché non conosce la lingua del posto. Inoltre, a dirla tutta, a Sarah non piace proprio vivere lì, non credeva che sarebbe stato così difficile allontanarsi da casa. Le manca tutto della sua Inghilterra, la sua abitazione, la sua famiglia, i suoi amici. Così prende la decisione di farvi ritorno, portando con sé i suoi ragazzi più grandi e il suo bimbo piccolo, perché nel frattempo lei e Ben hanno messo al mondo un figlio. Quando Sarah decide di tornare nel Regno Unito nel 2006, Ben sceglie di seguirla e la famiglia si stabilisce in una casa a New Ash Green, nel Kent. Ben inizia a lavorare come tassista, mentre Sarah riprende la sua professione da bancaria. Tuttavia, dopo un po' di tempo, Sarah conclude che quel lavoro non fa più per lei. Allora inizia a frequentare dei corsi per diventare estetista e terapista della bellezza. Anni dopo, nel 2012, Sarah resta nuovamente incinta e questa volta di due gemelli, quindi ora lei e Ben hanno tre figli in comune. Nonostante la loro famiglia si stia allargando, la relazione tra Sarah e Ben entra in crisi. La coppia litiga molto per le ragioni più varie e le ricorrenti discussioni portano i due partner a non essere più felici insieme. Così nel 2014 decidono di prendere le distanze l'uno dall'altra. Ma questa è lontana dall'essere una separazione amichevole, perché Ben si impegna a ostacolare Sarah. Un giorno, all'improvviso, senza prima parlarne, riempie alcune borse con le cose della sua ex e dei suoi figli maggiori e li caccia di casa per poi cambiare la serratura. Ben intende occupare l'abitazione con i suoi figli, i tre bambini più piccoli, e si rivolge persino al tribunale. In questa udienza dice alla corte che Sarah è una madre cattiva, che era stata lei ad aver deciso di andarsene e di abbandonare i suoi figli. Ovviamente è una menzogna, ma purtroppo i giudici credono a questa bugia e gli concedono la custodia dei tre figli. Sarah però non si dà per vinta. Assume un buon avvocato e, circa due anni dopo la separazione, nel 2016 riesce a ribaltare la situazione. Ora è a lei che viene assegnata la piena custodia di tutti i figli. Queste battaglie legali in realtà hanno stremato Sarah e spera che Ben le dia finalmente tregua che non cerchi di riconquistare la piena custodia dei bambini. Per placare gli animi gli fa una proposta. Perché non vivere entrambi nella stessa casa insieme ai loro figli come tutti e due desiderano, ma in stanze separate e ognuno coltivando la propria vita? Ben accetta, dunque rincominciano a vivere tutti insieme nella dimora di New Ash Green. Sarah riprende possesso della sua stanza, mentre l'ultimo piano della casa viene convertito in un'altra camera da letto per Ben. Sarah comunque non è del tutto soddisfatta di questa sistemazione perché non la rende felice a vivere con un uomo di cui non è più innamorata, ma sa che i loro tre figli sono ancora piuttosto piccoli, quindi questa è la soluzione ideale. Sarah fa del suo meglio per mantenere un rapporto civile tra lei e Ben, ma dopo un po' inizia a sentirsi con un altro uomo di nome Neil James, conosciuto tramite un'app di incontri. Neil e Sarah decidono di frequentarsi, si innamorano e concludono che vogliono trascorrere il resto della loro vita insieme. Così si fidanzano e poco dopo Sarah riscontra anche delle novità entusiasmanti dal punto di vista lavorativo. Infatti dopo aver concluso la formazione riesce a trovare molti clienti e ne viene anche offerto un lavoro come estetista in un hotel locale. Quest'opportunità si presenta non molto tempo prima che si verifichi il caso in questione. Sarah è al settimo cielo per questa nuova offerta di lavoro che le garantirà una retribuzione ben più elevata di quella che ora consegue, quindi è molto felice. Questo momento della sua vita le suscita grandi emozioni. Ha con sei suoi figli, ha un fidanzato che la ama e un nuovo lavoro in un settore a cui si è davvero appassionata. La sua vita può definirsi quasi perfetta e lei non vede l'ora di vivere il futuro che l'attende. Ecco perché quando Sarah sparisce senza lasciare traccia, tutti quelli che la conoscono rimangono a dir poco scossi. È il 9 ottobre del 2018. La giornata per Sarah inizia come tutte le altre. Quella mattina si sveglia, prepara i suoi figli per la scuola e li accompagna. Il primo figlio ha avuto con Ben adesso a 12 anni, mentre i gemelli ne hanno 6. Dopo aver lasciato i bambini a scuola, Sarah va al lavoro dove ha diversi appuntamenti con i suoi clienti. Una volta terminato, Sarah si rimette alla guida e rincasa poco prima delle 20. Si infila nel letto e rimane al telefono per un po'. Manda qualche messaggio ai suoi amici e al suo fidanzato Neil. La mattina successiva, il 10 ottobre del 2018, il suo fidanzato Neil inizia a preoccuparsi perché Sarah non risponde al messaggio che lui le ha mandato. Così Neil telefona l'ex di Sarah, bella comba, che vive ancora con lei chiedendo gli informazioni. Sarah per caso è ancora a casa? Ben risponde di no e aggiunge che non ha idea di dove sia andata la sua ex. In verità, presumeva che Sarah fosse con lui. Neil, sconfortato, decide di contattare i genitori di Sarah. Chiede se abbiano idea di dove sia la figlia, ma nemmeno loro sanno qualcosa. La madre di Sarah, Anne, a questo punto inizia a mandarle diversi messaggi. La chiama più volte, ma il telefono squilla a lungo e a vuoto. Anche i figli maggiori di Sarah, Jack e Lewis, vengono contattati in cerca di notizie, visto che ormai entrambi si sono trasferiti altrove. Purtroppo neanche loro hanno sentito la madre nelle ultime ore e non immaginano dove possa trovarsi. Provano a telefonarle, ma non ottengono risposta, come tutti gli altri. Jack e Lewis, turbati, si mettono in contatto con l'ex patrigno Ben, che a differenza loro non sembra preoccupato. È vero, non sa dove sia andata Sarah, ma è certo che non le è successo nulla di grave, che presto tornerà. In realtà anche il resto della famiglia di Sarah inizialmente non pensa al peggio. Suo figlio Jack, in un documentario sul caso, afferma che aveva ipotizzato che la madre stesse semplicemente vivendo una brutta giornata. Forse si sentiva un po' giù, quindi si era allontanata per dedicare un po' di tempo solo a se stessa, ecco perché non vadava al telefono, non voleva essere disturbata. Le ore però passano e di Sarah continuano a non esserci traccia. Dunque la preoccupazione dei suoi cari non fa altro che crescere. Eppure decidono di aspettare che passi la notte, sperando che lei torni la mattina successiva. Ma quando si alzano il giorno dopo non c'è ancora nessuna novità, così decidono di contattare la polizia. L'11 ottobre 2018 l'ex di Sarah denuncia la scomparsa della madre dei suoi figli, dicendo che è sparita nel nulla. Subito dopo gli agenti del dipartimento di polizia del Kent si recano nell'abitazione in cui la donna e Ben vivono con i loro tre bambini. Raccolgono una prima dichiarazione dall'uomo il quale ripercorre cosa è successo l'ultima sera in cui ha visto Sarah. Lei era rientrata a casa dal lavoro poco prima delle 20 e lui aveva appena messo i bambini a letto. Anche Sarah allora era andata subito a dormire e poco dopo Ben aveva fatto la stessa cosa. Si era ritirato nella sua camera all'ultimo piano poi la mattina seguente al suo risveglio si era reso conto che Sarah era già uscita di casa. Stranamente però la sua macchina era ancora parcheggiata fuori quindi ciò doveva significare che era uscita a piedi oppure qualcuno era passato a prenderla e per andare dove? Ben considera insolita la sua uscita improvvisa tuttavia non pensa che a Sarah sia successo qualcosa di brutto. Però tra un paio di giorni ricorrerà il compleanno di uno dei loro figli e dubiterebbe se Sarah non tornasse per l'occasione. Così la polizia del Kent avvia l'indagine. Alcuni agenti danno un'occhiata a casa di Sarah in particolare nella sua camera da letto e qualcosa cattura immediatamente la loro attenzione. Pare che ovunque sia andata lei non abbia portato nulla con sé. Oltre a lasciare la macchina davanti alla proprietà e le rispettive chiavi, Sarah non ha preso nemmeno le chiavi di casa, i propri vestiti, la propria borsetta e il portafoglio con dentro tutte le sue carte bancarie e i soldi. In effetti però c'è qualcosa che manca all'appello. Uno dei suoi cellulari risulta sparito. Sarah infatti ha due telefoni, uno per le chiamate di lavoro e uno personale ed è quest'ultimo che non viene individuato in casa. Quindi visto che il telefono personale non è rimasto a casa, se Sarah lo ha portato con sé perché non ha mai risposto ad alcuna chiamata? Questo particolare stranisce sia la polizia che i familiari e gli amici di Sarah. Se lei se ne fosse andata di sua spontanea volontà sicuramente avrebbe preso molte più cose, in particolare proprio la borsa e il portafoglio con le carte di credito. La polizia quindi teme che possa esserle successo qualcosa di sinistro, così rivolge subito un appello al pubblico, diffondendo la notizia della scomparsa di Sarah. Esorta chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti. Inoltre Lewis, uno dei figli di Sarah, utilizza i social media per riportare l'accaduto. Pubblica un post su Facebook attraverso il quale riesce ad attirare l'attenzione rapidamente. Infatti i residenti del villaggio si attivano prontamente per aiutare Lewis, i familiari di Sarah e la polizia nelle ricerche. Così, gli agenti supportati dai numerosi volontari si rendono conto della compattezza di questa comunità. L'enorme gruppo di ricerca costituito viene diviso in gruppi e a ogni squadra viene assegnata una zona diversa di New Ash Green ed intorni. La polizia e i volontari cercano Sarah lungo le strade, nei campi, nelle aree boschive e nei parchi, ma sfortunatamente di lei non c'è traccia. Gli agenti però non cedono, nel tentativo di comprendere se la donna scomparsa sia ancora in vita, esaminano i suoi conti bancari, ma Sarah purtroppo non ha effettuato alcun prilievo di soldi da quando è sparita. E questo solitamente non è un segnale positivo. Anche la ricerca del cellulare personale di Sarah, cioè quello che risulta disperso, fallisce. Il telefono è spento. La situazione non pare lasciare spazio a delle prospettive ottimistiche. I giorni scorrono senza che alcuna novità gli scuota dal loro grigiore. Ormai la polizia teme seriamente di dover cercare un corpo senza vita e un assassino, perché probabilmente Sarah è stata uccisa. Anche i familiari della donna in un primo momento avevano ipotizzato che lei fosse rimasta ferita durante una passeggiata. Ora considerano sfumata e remota questa possibilità. Adesso lo scenario che qualcuno le abbia volutamente fatto del male sembra decisamente più plausibile. E se fosse così, chi potrebbe essere il colpevole? Come da prassi nell'indagine, la polizia dà uno sguardo più approfondito alla vita di Sarah e alle persone che vi ruotavano intorno. Partner romantici o ex fidanzati sono sempre i primi soggetti a essere scrutati dalla polizia in simili circostanze. Quindi i detective puntano la loro attenzione da prima su Neil James, il fidanzato di Sarah. Gli chiedono di ripercorrere i suoi spostamenti in relazione alla notte in cui Sarah è scomparsa. Neil spiega che si trovava a casa quella sera e che ci era rimasto per tutta la notte. L'uomo vive nel Surrey che dista circa un'ora di macchina dal Kent dove risiede Sarah. Insieme a lui nell'abitazione c'era sua figlia di tre anni. Tuttavia, come Neil riferisce alla polizia, aveva parlato con Sarah quella sera. Lei poco dopo il suo rientro a casa dal lavoro l'aveva chiamato e avevano conversato per circa 15 minuti. Poi si erano scambiati dei messaggi prima che Neil andasse a letto. Dopodiché, come sappiamo, la mattina successiva proprio Neil aveva dato l'allarme perché una volta sveglio aveva mandato un messaggio a Sarah ma lei non aveva mai risposto. La polizia ritiene infine che Neil non abbia nulla a che fare con la scomparsa di Sarah. Ha conferma che la sera della sua scomparsa lui si trovava davvero in casa propria nel Surrey. Dunque, gli agenti continuano a indagare sulle altre persone appartenenti alla cerchia di conoscenza della donna. Interrogano tutti gli altri membri della famiglia, i suoi amici e l'ex di Sarah, Ben Lacombe, il padre di tre dei suoi figli e l'uomo con cui vive ancora. In realtà non occorre molto tempo prima che i sospetti ricadano proprio su Ben. Subito dopo la scomparsa di Sarah, la polizia e i familiari della donna avevano già notato che Ben si comportava in modo insolito, non sembrava affatto preoccupato dell'assenza della madre dei suoi figli. Lewis e Jack avevano dovuto pressarlo un po', pregarlo addirittura affinché si convincesse a chiamare le autorità per denunciare la scomparsa della donna. I due ragazzi avevano avuto la chiara sensazione che Ben non fosse affatto intenzionato a chiedere aiuto alla polizia e soltanto la loro insistenza alla fine l'aveva convinto a farlo. Ma questa non è l'unica stranezza che ha colpito Jack e Lewis. Un paio di giorni dopo la scomparsa della madre, loro due avevano chiesto all'ex patrigno di poter andare a casa sua per far visita ai loro tre fratellastri, ovvero ai figli più piccoli di Sarah e Ben. I ragazzini hanno tra i 6 e i 12 anni, dunque di certo stanno vivendo un momento di totale sconvolgimento, per cui Lewis e Jack intendevano verificare il loro stato d'animo. Eppure Ben aveva negato e continua a impedire a Jack e Lewis di vedere i loro fratelli da quando Sarah è scomparsa. E questo sì che è un atteggiamento strano. Dunque i due fratelli maggiori ormai sospettano che sia proprio Ben la persona che ha fatto del male alla loro madre. Pare che abbia davvero qualcosa da nascondere. Ma il comportamento sconcertante di Ben si estende ad altre situazioni ancora. Sempre nei giorni successivi alla scomparsa di Sarah, lui, invece di cercarla come tutti gli altri abitanti del piccolo villaggio, ha deciso di organizzare una festa per bambini. Presumo per il compleanno di suo figlio maggiore, visto che ricorreva proprio in questo periodo. Ha prenotato il Play Village, un'area giochi a tema per i bambini, e si è messo in contatto con degli animatori. Una scelta che le autorità, di nuovo, reputano strana. Per di più, sempre nello stesso periodo, Ben si è recato al tribunale per richiedere un'udienza urgente allo scopo di discutere dei figli. Voleva che gli venisse riassegnata la loro custodia completa. Una mossa decisamente assurda e poco furba, considerando che, di Sarah, non si hanno ancora notizie. Inevitabilmente su di lui si riaccendono i riflettori della polizia. Ricapitolando, la madre dei suoi figli è scomparsa, forse in grave pericolo, se non peggio. E lui, invece di aiutare la polizia nelle ricerche, come sta facendo tutta la comunità, organizza feste e tenta già di riottenere la piena custodia dei bambini. In pratica Ben sta suggerendo alla polizia che non gli importa un bel niente di Sarah. E in effetti tutti sono alquanto confusi dal suo comportamento. So che non era più coinvolto sentimentalmente con Sarah, che non condividevano più una relazione di tipo amoroso, ma lei rimane la madre dei suoi figli. Quanto meno Ben avrebbe dovuto collaborare alle ricerche per il bene dei suoi bambini. O forse lui ha davvero qualcosa a che fare con la sparizione di Sarah? Come sappiamo, Ben si trovava in casa con lei l'ultima notte in cui qualcuno l'ha sentita. Inoltre, aggiungiamoci anche che Ben ha esibito degli atteggiamenti altrettanto discutibili, mostrandosi palesemente restio a parlare con la polizia, che l'aveva raggiunto a casa dopo la denuncia di scomparsa. L'uomo non voleva rispondere a nessuna delle domande degli agenti e si era rifiutato pure di consegnare il suo cellulare. La polizia intendeva esaminarlo per un breve periodo per ricavare e consultare i suoi tabullati telefonici col fine di escluderlo dal caso come possibile sospettato. Ma Ben non lo aveva permesso, ricorrendo alla scusa di dover effettuare delle chiamate importanti e promettendo in vano di portare il cellulare alla stazione di polizia il giorno successivo. In realtà, come scoprono i detective, quella stessa sera dopo essersi rifiutato di consegnare il telefono, Ben si era recato in un altro villaggio del Kent a Greenhide che si colloca a circa 8 miglia di distanza da New Ash Green e aveva buttato il suo cellulare nel Tamigi. Pensate che viene pure ripreso da una telecamera a circuito chiuso mentre lo fa. Lo sveglione. Il giorno successivo, Ben, credendosi astuto, era andato in un negozio e aveva comprato lo stesso telefono per poi consegnarlo alla polizia fingendo che fosse quello vecchio. E io sono senza parole per quanto siano goffe queste mosse, sono proprio goffe. Questo tizio non sa quello che sta facendo. Sta andando a caso, a tentoni, e si nota. Come immaginerete, quando la polizia lo scopre, diventa ancora più sospettosa nei confronti di Ben. Chiaramente lui stava tentando di sbarazzarsi delle prove. Su quel telefono di certo c'era qualcosa di compromettente che le autorità non avrebbero dovuto vedere. Inoltre, Ben non voleva che riuscissero a rintracciare la posizione del suo cellulare la notte in cui Sarah era sparita. In quell'occasione lui l'aveva uccisa. Questo ritiene la polizia che decide di arrestare Ben in quanto è sospettato dell'omicidio della sua ex, nonostante non abbiano ancora trovato il suo corpo senza vita. A questo punto sono passati cinque giorni dalla scomparsa di Sarah. Ben viene portato alla stazione di polizia per un interrogatorio, ma si rifiuta di rispondere a qualsiasi quesito. Le uniche parole che pronuncia a seguito delle domande dirette degli agenti sono no comment. Quindi non collabora, ma non nega le accuse che i detective gli stanno facendo. Non prova a difendersi e non sostiene la propria innocenza. E io penso che questo sia già molto significativo. La polizia, pur convinta che Ben sia il responsabile della scomparsa di Sarah, in realtà non ha prove sufficienti per formalizzare l'accusa e trattenerlo. Piuttosto è in possesso di prove circostanziali, quindi intanto dopo l'interrogatorio Ben viene rilasciato su cauzione. Gli agenti però sono determinati a consolidare il caso contro di lui. Nel tentativo di trovare ulteriori prove, la polizia controlla le telecamere a circuito chiuso della zona dove si colloca la casa di Sarah e Ben. In realtà anche all'esterno della loro abitazione erano state installate delle telecamere proprio per volontà di Ben. Tuttavia quando la polizia gli aveva chiesto l'autorizzazione per visionare i firmati ripresi la notte della scomparsa di Sarah, Ben aveva risposto che, sfortunatamente, le telecamere a circuito chiuso della sua proprietà non funzionavano da circa un anno. Ma in aiuto della polizia viene il vicino di casa di Ben. Anche lui aveva installato una telecamera a circuito chiuso all'esterno della propria abitazione e la sua è funzionante. Non solo, è rivolta proprio verso il parcheggio situato davanti alla dimora di Ben e Sarah. Quindi la polizia esamina il filmato relativo alla sera del 9 ottobre e poco prima delle 20 appare Sarah che parcheggia la macchina fuori da casa propria per poi rincasare. Però, stranamente, al contrario di quanto risulta dalle altre riprese, proprio quel giorno non compare anche Ben che posteggia la propria macchina nel medesimo parcheggio di fronte alla sua abitazione. Come mai la sua auto non è al solito posto? La polizia crede che Ben avesse appositamente deciso di posteggiare la macchina in un altro parcheggio situato dietro la casa del vicino dove non è presente nessuna telecamera a circuito chiuso. Quindi i sospetti nei suoi confronti non fanno altro che aumentare. Ogni sera, al rientro a casa, Ben parcheggiava la sua macchina davanti alla propria abitazione. Eppure, nella notte in cui è successo qualcosa a Sarah, ha scelto di lasciarla in una zona dove non ci sono telecamere che avrebbero potuto riprenderlo. Questo è l'ennesimo elemento che fa intuire alla polizia che Ben, la comba, sta cercando di nascondere qualcosa. E poi, sempre grazie all'inquadratura della telecamera del vicino, i detective scoprono di poter visualizzare una delle telecamere a circuito chiuso presenti all'esterno della casa di Ben. Come ricorderete, Ben aveva detto agli investigatori che le sue telecamere non funzionavano da circa un anno, ma le autorità riescono a dimostrare che aveva mentito. Il filmato della telecamera del vicino, registrato quella notte, mostra chiaramente la luce rossa lampeggiante della telecamera a circuito chiuso fuori dalla casa di Ben e Sarah. Ciò significa che il loro dispositivo era in funzione, anche se ore più tardi la luce rossa aveva smesso di lampeggiare. Quindi qualcuno, certamente Ben, l'aveva spento in un secondo momento. Ma la prova più schiacciante contro il sospettato emerge quando la polizia esamina le telecamere a circuito chiuso di altre zone nei dintorni della casa di Ben e Sarah, dove sono presenti altre abitazioni dotate di sistemi di sorveglianza installati all'esterno. Dunque, intorno alle 2.15 della notte in cui Sarah è scomparsa, è immortalato il passaggio di un'auto che sembra essere quella di Bella Comba. Marca e modello corrispondono. Purtroppo la polizia non riesce a determinare il numero di targa del veicolo perché i filmati risultano un po' sgranati, inoltre era buio. Tuttavia, su una fiancata del veicolo ripreso viene individuato un logo. E anche l'auto di Bella Comba ne ha uno, nello stesso punto, nello specifico quello del suo taxi perché, come detto, Ben è diventato un tassista. Dunque, la polizia crede fermamente che in quella macchina ci fosse proprio lui che guidava nel cuore della notte. Questo è un elemento importantissimo per far progredire ulteriormente le indagini perché quando la polizia aveva raccolto la prima dichiarazione di Ben, lui non aveva affatto menzionato di essere uscito quella notte. Anzi, a dirla tutta aveva affermato di essere sempre rimasto a casa a dormire. Dunque, questa è l'ennesima bugia che ha raccontato agli investigatori. La polizia insiste nel provare a rintracciare il veicolo di Ben quella notte, attraverso varie telecamere a circuito chiuso e quelle per il riconoscimento della targa dei veicoli. Dopo questo controllo è in grado di determinare che l'indagato era uscito dal villaggio in cui lui e Sara vivevano. Nello specifico, l'ultimo avvistamento del suo veicolo è immortalato da una telecamera verso Patxell Green Road, a Stansted, sempre nel Kent, a circa un paio di miglia di distanza da New Ash Green. Sfortunatamente, dopo questo avvistamento, la polizia perde le tracce dell'auto. Ciò nonostante, dopo due ore, intorno alle 4.20, la macchina di Ben viene nuovamente ripresa dalle stesse telecamere al circuito chiuso mentre percorre il tragitto nella direzione opposta. Quindi adesso sta guidando verso casa propria. Questo vuol dire che Ben era rimasto in giro per più di due ore nella notte in cui la sua ex compagna, Sara Walgreens, è scomparsa. La polizia presume che durante quelle due ore Ben fosse andato a sbarazzarsi del corpo senza vita di Sara. Forse l'aveva sepolta da qualche parte in una zona vicino a Stansted. Inoltre emerge che Ben aveva nascosto nella sua casetta da giardino una pala e la polizia ritiene che potrebbe averla usata proprio per scavare una tomba per Sara quella notte. Sulla questione, Ben però afferma che la pala è un regalo per sua madre perché a lei piace prendersi cura dei fiori e delle piante nel suo giardino. Ma la polizia non crede a questa storia, convinta che Ben abbia usato la pala per seppellire il corpo di Sara. Esaminando altre riprese del veicolo di Ben ottenute grazie alle telecamere a circuito chiuso, la polizia nota qualcos'altro di sospetto. La mattina successiva alla scomparsa di Sara, mentre Ben portava i suoi figli a scuola, la macchina appare sporca, macchiata di fango sulle ruote, sulle porte e sui lati. Eppure, poche ore dopo, l'auto viene avvistata da una telecamera a circuito chiuso e ora è immacolata, ripulita alla perfezione. La domanda però resta. Da dove proveniva tutto quel fango? La polizia immagina che in quelle due ore nel cuore della notte Ben si fosse recato in una zona boschiva e fangosa per liberarsi del cadavere di Sara. In seguito alla scoperta di queste ulteriori prove, nel dicembre del 2018 Ben Lacomba viene nuovamente fermato, più di due mesi dopo la scomparsa della sua ex compagna. Anche questa volta durante l'interrogatorio lui fa scena muta. Si rifiuta di dire qualsiasi cosa, ma viene ugualmente accusato dell'omicidio di Sara Walgreens, nonostante il suo corpo risulti ancora disperso. Gli investigatori hanno trascorso gli ultimi mesi a costruire il caso contro Ben. Intanto altri agenti e volontari hanno continuato a cercare ovunque il corpo della donna. Nei campi, nei boschi, nei grandi specchi d'acqua, senza che si registrasse alcuna svolta. Nonostante questo, la polizia ritiene di avere prove sufficienti per dimostrare la colpevolezza di Ben Lacomba. Niente suggerisce che Sara sia ancora viva e numerosi elementi dimostrano che è Ben la persona che gli ha tolto la vita. Quindi il caso finisce in tribunale. Il processo contro Ben Lacomba inizia nel settembre del 2019, dunque poco meno di un anno dopo la sparizione di Sara. Come ampiamente previsto, Ben si dichiara non colpevole dell'accusa di omicidio. In una delle udienze l'accusa presenta alla giuria la versione dei fatti ricostruita attraverso tutte le prove raccolte durante l'indagine della polizia. Secondo l'accusa, quindi, gli eventi di quella notte avevano avuto inizio al rientro a casa di Sara dopo il lavoro, la sera del 9 ottobre 2018. Quando i loro tre figli si erano addormentati nei loro letti, probabilmente era scoppiata una discussione tra Ben e Sara. Viene teorizzato che lei avesse intenzione di cambiare l'intestatario del mutuo sulla casa, sostituendosi a Ben. In precedenza, le condizioni economiche di Sara non potevano permetterglielo, ma vi ricordo che nell'ultimo periodo lei aveva trovato un lavoro come estetista presso un hotel locale, iniziando a guadagnare bene. Come sappiamo, Sara e Ben non condividevano più una relazione, ma avevano deciso di abitare insieme per un altro po' di tempo, rimanendo nella stessa casa dove stavano crescendo i loro figli. Chiaramente questa non poteva essere una situazione sostenibile nel lungo termine. Sara non voleva vivere con il suo ex, ma non aveva altra scelta per evitare ulteriori battaglie legali contro di lui. Tuttavia, il suo nuovo lavoro come estetista le aveva aperto una prospettiva diversa. Voleva intestare il mutuo a suo nome e prendere le distanze da Ben, nella speranza che entrambi avrebbero potuto andare avanti con le loro rispettive vite. Quindi, sempre secondo la tesi dell'accusa, quella sera Sara era tornata a casa e aveva detto a Ben che voleva essere lei l'intestataria del mutuo. Allora, il suo ex aveva sbottato, arrabbiandosi per una simile proposta. Ben non intendeva lasciare quella casa e nemmeno perdere il controllo della situazione. Ecco perché aveva ucciso Sara. Purtroppo non si sa in che modo, perché il corpo della donna non è mai stato ritrovato e Ben non intende pronunciare una sola sillaba sugli eventi di quella notte cupa. Si ritiene però che dopo l'omicidio, Ben avesse sistemato il corpo della sua ex nella propria macchina. L'aveva già parcheggiata in un posto in cui sapeva dell'assenza delle telecamere a circuito chiuso, il che suggerisce che il crimine fosse comunque premeditato. Poi, nelle prime ore del mattino, aveva iniziato a guidare verso una località remota, aveva sepolto i resti di Sara ed era tornato indietro. La mattina dopo, nel momento in cui aveva portato i suoi figli a scuola, la sua macchina era apparsa nel filmato di una telecamera sporca di fango, ma poco tempo dopo ecco che era stata totalmente ripulita. Infine Ben aveva ripreso la sua vita normalmente come se nulla fosse successo. Alla fine del processo la giuria si ritira per deliberare e quando torna in aula annuncia il verdetto. Ben la comba è colpevole dell'omicidio di Sara Walgreen e viene condannato all'ergastolo con un minimo di 27 anni. Il caso però non può dirsi davvero risolto perché ad oggi il corpo di Sara non è ancora stato ritrovato. A seguito della condanna di Ben, la polizia continua a cercare i resti della donna per altri due anni dopo la sua morte. Poi smette nell'ottobre del 2020. La famiglia di Sara e i suoi amici e i membri della comunità locale invece non hanno mai interrotto le loro ricerche. Ancora oggi alcuni di loro continuano a perlustrare potenziali luoghi di sepoltura e il team in questione ha creato una pagina su Facebook chiamata Search for Sara Walgreen e un'altra su GoFoundMe, parte delle donazioni ricevute copriranno le spese del funerale per quando, si spera, verrà ritrovato il corpo di Sara. Il resto sarà donato ai suoi figli più piccoli visto che hanno perso entrambi i genitori. I tre ragazzini infatti sono stati affidati ai nonni materni dopo la condanna di Ben. In conclusione io spero con tutto il cuore che un giorno non troppo lontano il corpo di Sara venga trovato. I suoi cari non sono ancora riusciti a farle un funerale e a darle degna sepoltura. Non possono farle visita a un cimitero e rivolgersi ai suoi resti per uno sfogo o una preghiera. Nonostante abbiano implorato Bella Comba di rivelare il luogo in cui ha nascosto il corpo, lui si è sempre rifiutato di parlare, forse per codardia. Ecco l'ennesima spietata storia di violenza che ci richiama a un'urgenza perenne della società, la quale dovrebbe non solo condannare questi atti ma anche impegnarsi attivamente a prevenirli. Lo si sente dire di continuo. È tempo di trasformare il dolore in azione per garantire che nessun'altra vita venga spezzata in nome di un amore diventato un pericolo letale. Detto questo io ho finito di parlare in questo video, sono assolutamente curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni, quindi fatemi sapere qua sotto tutto quello che volete. Scrivetemi le vostre idee, le vostre opinioni, cosa ne pensate di questo caso, se lo conoscevate, insomma non vedo l'ora di leggervi tutti. Io nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo il prossimo video, mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici, basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie! Grazie!